cosa fai sembra parecchio concentrato è eric oh mamma questa storia ti sta dando la testa no dominique io sto lavorando quello che dovrebbero fare tutti quanti tutti i componenti di questo quartier generale tu comandante invece che cosa hai fatto beh io stavo ragionando stavo ragionando e riflettendo tu piuttosto che cosa hai scritto cos'è un profumo una microspia cos'è una lista della stessa no questo qui è un piano l'agente 00 eric chi ha un piano chi 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 è che ha un piano l'agente 00 eric è un nome segreto il tuo nome segreto sì ogni agente del nostro quartier generale ha un nome segreto anche di insimini hanno un nome segreto e il mio è agente 00 eric cosa ma perché perché ti inventi queste cose ma poi scusa il secondo che razza di nome segreto è 00 eric se ti chiami eric non è segreto per niente un nome segreto è un nome che non si capisce ah allora facciamo 00 eh va bene così beh è un po' banale ma ok piuttosto che c'è scritto qui fammi capire vi spiego ascoltami e ascoltatemi tutti noi dobbiamo stare in casa ma nel frattempo dobbiamo fermare il dottor ginio ok che ha inventato un profumo che è capace di trasformarci in isabella e romeo e sappiamo che ne ancora noi quindi abbiamo messo una micro spia su di lui per conoscere tutti i suoi movimenti nel frattempo lui ha un piano segreto e ha scritto di questo piano nel nostro libro che lui ha creato e ha inserito delle pagine segrete quindi noi dobbiamo scoprire 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 tutto quello che lui vuole fare oh wow tutto chiaro però questo lo lo sapevamo già e quindi se solo riuscissimo a scoprire che cosa significa quello che c'è scritto dentro il nostro libro nelle pagine segrete forse riusciremo a trovare degli indizi ma quelle pagine sembrano non avere senso quel libro quel libro lì che ormai conoscete tutti quanti che noi abbiamo riempito con tantissime cose divertenti con tantissime cose su di noi adesso ha anche un mistero all'interno grazie al dottor gene abbiamo letto quelle pagine e anche tutti voi che avete già il libro avete letto quelle pagine ma cosa vuol dire qual è il suo piano e soprattutto a che co eric gli occhiali non ci vedo mai le lentine sì ma gli occhiali facevano scena dicevo che cosa significano e a che cosa servono quegli enigmi devono per forza servire a qualcosa voi che cosa ne pensate li avete già letti risolti fateci sapere leggeteli perché noi abbiamo bisogno del vostro aiuto dobbiamo assolutamente scoprire al più presto possibile e fermare il dottor genio e se ancora non avete il libro vi ricordiamo che potete trovarlo in tutti i siti che vendono libri lo trovate su amazon insomma vi lasciamo il link in descrizione e vi arriverà direttamente in casa vostra leggetelo e fateci sapere sì lo so so che le pagine del dottor genio sono brutte in confronto alle nostre però secondo me servono a qualcosa per forza buongiorno ragazzi io sono eric e io sono davini e che siamo rinno 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 mai mettere un oggetto al centro di casa quando eric è in casa troppo pericoloso tutto quello che hai detto è sensato ma stavo riflettendo tutto quello che c'è scritto qui è a nostro sfavore tranne una cosa la micro spia la micro spia è qualcosa a nostro vantaggio siamo stati molto astuti quando gli abbiamo messo una micro spia perché amicia cosa c'è che non va secondo te dottor genio dov'è non c'è che cosa non lo so dicevo ti comporti molto strano amicia ti comporti molto strano amicia eric ah sì sì scusami stavo dicendo non possiamo uscire fuori a seguirlo non possiamo cercarlo nei posti che scopriamo con la micro spia però potrebbe lo stesso essere utile anche da qui se lo seguiamo anche a distanza possiamo scoprire qualcosa sui posti in cui si trova grazie al gps che c'è nella micro spia possiamo vedere la posizione e vedere se si trova in città in campagna al mare o davanti al negozio ho capito sei un genio dominic giustamente se va al panificio gli serve del pane e se poi va in salumeria vuole farsi un panino col salame sì non che ci importi cosa mangia il dottor genio però se va dal ferramenta gli serve qualche attrezzo se va al supermercato e compri la carta igienica significa che il panino col salame ci siamo capiti questo è l'obiettivo di oggi l'obiettivo del giorno del nostro quartier generale ed è il vostro comandante che vi parla è quello di seguire la micro spia studiare ogni spostamento del dottor genio che farà tutto il giorno e studiare delle teorie o una cosa simile voi lasciate like a questo video qui sotto adesso se volete aiutarci a scoprire che cosa ha intenzione di fare il dottor genio e fermarlo e iscrivetevi al canale attivando la campanella per non perdervi nulla questo qui è il radar ormai lo conoscete è quel quadratino lampeggiante è il dottor genio guardate c'è anche scritto dottor genio grazie a questo radar noi possiamo vedere quando il dottor genio si avvicina o si allontana da noi e in questo momento per fortuna sembra lontanuccio sì certo non ci sono disegnate qui le strade le vie però deve esserci un modo per capire la posizione o dottor genio allora ci sono i punti cardinali no questi sono punti cardinali sono nord sud est ovest forse è meglio che guardo io allora magari devo andare forse verso il sud vado verso la sicilia no 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 eric fatte un'occhiata a me che stai facendo eric eric ti girerà la testa eric fermati eric lì si trova al nord si trova il nord trovando il nord si trova il dottor genio il dottor genio si trova estremamente al nord forse forse è al polo nord ma che ci fa al polo nord ma non penso sia così lontano eric è qui vicino eric ma come hai fatto a non vedere il muro devo proseguire al nord il telefono eric è il mio sta parlando devo andare al nord eric no 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 ma il nord non è mica dietro quel muro devo fare come navigare al nord dicevo è meglio che controllo io sempre se il telefono funziona ancora cos'è che dice controlla i numeri domica visto che ci sono dei numeri controllali controllali che forse è il numero di telefono del dottor genio numero di telefono ma no eric sei un genio gli chiamiamo no no forse non sei proprio un genio ma i numeri i numeri indicano la posizione tipo la longitudine la latitudine queste cose così possiamo metterle al computer e trovare dei posti andiamo sono un po' confusa perché scusa io che avevo detto non avevo detto che era la longitudine è una malattia ok ragazzi ho inserito i numeri che trovavo dal radar e mi da questa zona qui guarda un po' è in città ci sono le case quindi il dottor genio è in una di tutte queste case o per strada non è detto che sia dentro una casa ma non penso che sia per strada non può mica camminare per strada con la maschera oppure per camminare per strada ed essere più in incognito cammina senza maschera mostrando il suo vero volto questo non lo sappiamo eric stai calmo guarda qui aiutami purtroppo non riesce a dare una posizione super precisa non è che indica un palazzo o un incrocio in particolare abbiamo solo un'indicazione sappiamo che è in città servirebbe andare lì ed esplorare tutte queste vie non possiamo eric lo sai lo so lo so però possiamo chiamare tutte le persone che stanno in quella zona e chiedergli se hanno visto qualcuno di soffetto eric troppo complicato non lo so cosa potrebbe fare in città riflettiamo beh effettivamente in città può fare davvero troppe cose come facciamo non lo so ci vorrebbe un modo per spiarlo ma senza bisogno che noi andiamo lì come possiamo fare cosa? ehi omi omi? ehi omi ma come ci vai tu omi? come? ehi omi no 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 omi ma come fai? tu sei piccolino nel senso pensa però sei piccolo così omi davvero lascia fare gli eduti omi erano io erano io lo sto vedendo molto insistente ma omi tu sei piccolino sei più in difesa di tutti quanti veramente non puoi e se mai ti succedesse qualcosa io non me lo perdonerei omi basta ma perché così insistente? omi davvero tu non vai da nessuna parte resta a casa tranquillo che? omi no dominique effettivamente non ha tutti i torti in realtà qui lui è l'unico che può uscire le persone, gli umani non possono uscire lui non può prendere virus, non può stare male, non può fare niente beh effettivamente è un robot, lui può uscire ma anche se può uscire non può affrontare un tragitto così lungo e mettersi beh ma pensa che non può esserci nessuno in strada quindi può stare tranquillo ma potrebbe essere pericoloso per lui e poi non so se riusciremo a concludere qualcosa cioè tu lo pensi capace beh lui sa fare tante cose e poi insiste così tanto però poverino forse è meglio di no dai però insiste beh se insiste forse dovremmo dargli fiducia ok diamogli fiducia ok omi ci abbiamo riflettuto su ci abbiamo pensato e se tu te la senti e credi di esserne capace puoi farlo in fondo chi meglio di te conosce il dottor genio vai lì e torna quando saprai qualcosa però facci sapere come va cioè noi come facciamo a sapere se è tutto a posto? ti ricordo che io ho le telecamere ah ah giusto le telecamere che usava per spiarci vero vabbè ok non pensiamoci più ok puoi andare siamo sicuri che andrà tutto bene? vabbè piedi tu io ok omi magari ti accompagniamo aspetta un attimo vai piano attento attento al muro omi di là sì non so se tu sei mai riuscito da qui qui c'è l'ascensore vai di qua qui ad entra mi viene e te lo apro ci penso io giustamente tu come fai ad aprirlo? dai omi entra in ascensore ok perfetto omi mi raccomando stai attento mi raccomando omi aspetta aspetta l'ascensore sei sicuro che andrà tutto bene? non lo so osserviamo dalle sue telecamere sì lo teniamo d'occhio ecco ti omi dicevamo ok omi mi raccomando tu stai attento noi guarderemo tutto dalle telecamere ok ti teniamo d'occhio ok omi sembra convinto sembra convinto vero? ti premo il pulsante vero ciao omi ciao ciao stai attento ciao speriamo bene andiamo a controllare subito vieni veloce controlliamo subito non perdiamo l'occhio nemmeno un istante povero omi saremo con lui non lo lasceremo solo sperimentare subito 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 Sì! No! No! Arribiamo, ammio! Sì! Sì! Vabbè, me lo senti! Te l'avevo detto! Io te l'avevo detto! Tu le fatteste! Poverino, poverino! Dai, dai, dai! Piano, piano! Piano, piano! Scusaci No 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 non veder nessuna parte torniamo a casa andiamo Stai bene amico mio Forse non è stata una buona idea No Torniamo a casa Mamma mia torniamo a noi ci servirà a trovare un'altra soluzione Ma intanto continuiamo a controllare dove si trova Fa vedere, vediamo se si è spostato in questo frattempo O no Guarda, guarda, è qui È qui, è qui, è qui, si trova qui Qui dove Dominique? È per strada, dov'è? No, no, non sembra per strada Qui dice proprio che È qui, il dottor Gino è su di noi Su di noi? No, no, non su di noi, il dottor Gino è in casa nostra In casa nostra? Ma dove? D'insieme, d'insieme, d'insieme